Ciao a tutti, mi chiamo Murillo, vengo dal Brasile ma abito in Italia da due anni ormai e vi racconto un po' cosa sono successi in questi tre giorni qua all'economia Francesco. Sono stati giorni di molta conoscenza, scambio, networking, ma soprattutto coinvolgere in una società più fraterna, più equa, più giusta. Gioveni che sono protagonisti, che sono giovani che fanno la nuova economia di oggi e si impegnano a costruire una società veramente che prende il culo del creato e va oltre le proprie fragilità. Per cui vi invito domani a votare perché siete tutti chiamati alla responsabilità.